vai e ancora un po più in là perché lui mi deve uscire proprio dall'inquadratura ancora non era ok vai perfetto e facciamo l'ultima dove praticamente dopo che lui è uscito se tu lo rincorri ancora con ok spada alta amicato anche si facciamo proprio l'ultimo scambietto dai per qui ce l'abbiamo